Oggi tutti vogliono fare medicina veterinaria, perché questo è lo stand di medicina veterinaria e ovviamente è dura, perché tutti chiedono ma c'è uno sbocco professionale facile? Purtroppo sfida trovare lo stand qui, la facoltà che dà uno sbocco professionale facile. Purtroppo anche veterinaria che di lavoro ce n'è, però abbiamo tanti veterinari purtroppo in Italia e non è facile, non è facile. Ma veterinari perché amano tutti i gattini, i cagnolini? La maggior parte sì. Lo sanno che dovranno anche andare a fare partorire una scrofa? Non lo sanno, ma noi proviamo a diglielo e comunque si abitueranno anche a queste cose qua, è importante. Perché le scrofie sono tanto carine, come i cagnolini gattini. Assolutamente, assolutamente. Per medicina veterinaria è un numero chiuso e quest'anno saranno 91, soltanto 91, quindi sarà una selezione piuttosto forte, perché normalmente abbiamo intorno alle 600 domande per medicina veterinaria. Grazie. Grazie. Grazie.